Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube di Profumerie e Piselli. Oggi, nella puntata di oggi, parleremo dell'idratazione della pelle, dell'idratazione del viso che è la funzione principale della nostra pelle. Abbiamo un ospite che ci parlerà appunto di questo argomento, è Carolina. Ciao Carolina. Ciao Elisabetta, buongiorno. Carolina è beauty consultant di Clarence che, fra l'altro, questa azienda ha recentemente riformulato proprio completamente la linea idratante, che si chiama Idresentiel. Ce ne vuoi parlare, Carolina, di questa splendida linea che contiene diversi prodotti che possono essere molto utili per la beauty routine del viso? Certamente. Allora, comincio ovviamente a dire che l'idratazione è alla base, è alla base di una skin care, è alla base della salute della pelle e di un buon funzionamento metabolico. Quindi l'idratazione è imprescindibile e soprattutto l'idratazione è perfetta per tutte le pelli. Clarence, eccola qui, ha rinnovato, più che riformulato, la linea Idresentiel perché Clarence lavora con delle formule aperte. Quindi le innovazioni che già erano state precedentemente utilizzate nella linea idratante vengono portate avanti e ovviamente migliorate e qui abbiamo proprio la nuova formula. Idresentiel che ha un cuore della formula molto particolare, molto importante. Quindi direi che possiamo approfondire l'argomento che mi sembra interessantissimo, si imparano sempre delle cose nuove, quindi parlaci pure del cuore della formula. Allora, tutti i prodotti della linea Idresentiel hanno in comune questa innovazione ed eccola qui, una doppia molecola di acido ialuronico che è in grado di idratare la pelle sia in profondità sia in superficie. Sono differenti pesi molecolari, in questo modo abbiamo una riserva di acqua nelle parti più profonde della pelle e abbiamo anche un bel effetto rimpolpante e visibile nell'immediato. Ovviamente si parla di acido ialuronico di derivazione vegetale come in tutti i prodotti Clarence. Oltre all'acido ialuronico, importantissima, c'è un fitto estratto molto importante che viene chiamata la pianta di Goethe, che serve proprio a creare una vera e propria riserva di acqua perché va a stimolare il tuo acido ialuronico, quindi la tua produzione di acido ialuronico. In questo modo abbiamo una riserva di acqua costante per tutta la giornata. Vedo che nella linea esistono diversi tipi di prodotti, immagino per i diversi tipi di pelle, consistenze diverse. Certamente, allora ci sono differenti prodotti, servono per dare la giusta idratazione alla diversa tipologia di pelle, quindi a ciascun tipo di pelle la sua idratazione. Adesso prendo i prodotti, eccoli qua, che così li facciamo vedere anche meglio. Allora, la gel. Partiamo dal prodotto di idratazione per le pelli miste e grasse. È una gele freschissima, adesso ve la faccio anche vedere, quindi una consistenza, ecco qui, una consistenza che si può chiamare gel sorbetto perché oltre a essere una consistenza leggera in gel, dà anche freschezza alla pelle nel momento dell'applicazione. Questa crema è dedicata ovviamente alle pelli miste, pelli grasse, pelli che presentano il poro dilatato, pelli che tendono anche al sebo in eccesso. Oltre a tutto il fattore di idratazione di cui parlavamo prima, ha anche un effetto opacizzante. La consistenza è meravigliosa, è impalpabile, delicatissima, molto molto bella. Bene. Poi andiamo con questo prodotto che io amo particolarmente, che è un fluido, è un fluido latte, eccolo qui. Così lo mostriamo. Esatto. Questo bel fluido, molto generoso anche come quantitativo, sempre cuore della formula. Sì, è un 75 ml. Facciamo vedere anche questa consistenza, che è quasi un latte, un latte freschissimo, impalpabile, molto piacevole per chi desidera una consistenza leggera. Molto bello anche questo, si assorbe con grande facilità ed è piacevolissimo. Una pressione, ricordo che è già sufficiente. Si scalda il prodotto nelle mani, si stende sul viso, collo, decoltè. Perfetto. Poi passiamo alle creme, quindi l'iconica crema che ti ricordi era la desalterante. Oggi è la nostra, eccola qua, Idra Essentiel, pelli normali, pelli disidratate. Ed è lei. E qui abbiamo una consistenza cremosa, però di facile assorbimento, come sempre, che si adatta molto bene, ha più tipologie di pelle. E poi abbiamo, per le pelli molto, molto secche, l'ultima texture ed è quella più ricca. Per le pelli secche, ovviamente, che cosa c'è in più? Il burro di karité, che Clarence utilizza tantissimo. Un burro di karité altamente qualitativo. Eccolo qui. E qui sentiamo che è proprio più cremosa, più ricca, più confortevole, estremamente morbida. Quindi sono prodotti 24 ore, che si possono mettere mattina e sera. Certamente, tutte queste texture sono tutte di idratazione, quindi si possono utilizzare sia giorno che sera. Però da oggi c'è anche una novità, ed è la crema specifica idratante notturna. Questa è proprio nuovissima, è un prodotto innovativo perché si è scoperto che ovviamente la notte, nel momento in cui noi e l'organismo non si può idratare, è il momento di maggiore disidratazione della pelle. Quindi un prodotto specifico che ci garantisce che la pelle al mattino non si risvegli completamente assetata e quindi anche con un bell'aspetto pieno, rimpolpato anche già al mattino. Che cosa c'è di diverso? Un estratto di piante, lo squalano vegetale, che è importantissimo per rinforzare la barriera cutanea. E vi faccio vedere la texture di questo prodotto, perché è una texture sensoriale, meravigliosa, sembra velluto sulla pelle. Ah sì, è proprio un velluto, è morbidissima ed è piacevolissima. Ottimo. Quindi ho visto che comunque, a parte ovviamente il discorso della crema da notte, i prodotti non hanno l'SPF, non hanno il fattore di protezione solare. Non c'è più un SPF dichiarato, tutti i prodotti hanno all'interno della formula il complesso antinquinamento, che garantisce la massima protezione da tutti i tipi di inquinamento e ovviamente anche dalla luce. Non c'è più un SPF basso, tipo 15, perché era comunque un SPF di cortesia. C'è una filosofia nuova, nel momento in cui c'è l'esigenza di un SPF, che sappiamo che deve essere ripetuto durante la giornata, quindi la crema che mi metto al mattino con un SPF 15, già alle 10 di mattina non garantisce più quel tipo di protezione. Quindi che cosa c'è? Luvi Plus. Una protezione SPF 50, leggera, freschissima, che si può adattare su qualsiasi prodotto che abbiamo scelto, su qualsiasi texture e consistenza e si può anche ripetere durante la giornata. Ed offre anche un'ottima base per il trucco. E' una perfetta base per il trucco, sappiamo che una pelle ben idratata è una pelle che rende bellissimo anche il fondotinta. Quindi tutti questi prodotti possono essere anche una base per il fondotinta. Perfetto, anche un abbinamento di fondotinta corretto che è questo. Abbiamo proprio il fondotinta eventualmente idratante. Per pelli che hanno proprio bisogno di molta idratazione, Skin Illusion, fondotinta ultraleggero, che contiene all'interno della formula gli elementi di cui abbiamo parlato prima, che sono anche racchiuse all'interno delle creme. Quindi abbiamo una sinergia perfetta di idratazione e una resa di fondotinta stupenda, luminosa, senza rughe, con un bel effetto di pelle sana. Perfetto, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. vi abbiamo parlato appunto dell'idratazione con i nuovi prodotti di Clarence della linea Idersenziel. Sono prodotti importanti per la nostra pelle, che possono essere utilizzati mattina e sera. Escusa ovviamente la crema da notte, che è il prodotto nuovo che può essere utilizzato solo per la notte. Io saluto Carolina e poi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie Elisabetta, ciao a tutti! Ciao!